Ha girato il quartiere di Mortise per poi fermarsi al mercato il candidato sindaco Massimo Bitonci ricevendo attestazioni di stima, richieste e ringraziamenti da parte dei residenti del quartiere che in modo particolare apprezzano quanto fatto per lo sgombero del Camponomadi di Via Bassette e per la chiusura della sala giochi di Via Lanari. È giusto ricordare quello che è successo nel 2014, il quartiere a Mortise attorno a Via Lanari chiedevano la chiusura della sala slot che è stata aperta, a parte che noi siamo sempre stati conto della ludopatia e abbiamo realizzato e fatto delle ordinanze che limitano l'orario e anche delle modifiche del regolamento in modo che possano essere aperte solo lontano dalle scuole, dai bancomat, dalle poste, dai centri parrocchiali e quindi rimane solamente la zona industriale. L'importante è perché tutti chiedevano la chiusura e alla fine è stata chiusa quindi bisogna ricordarsi anche le cose fatte, sono passato stamattina, ho fatto anche delle foto perché è giusto ricordarsi che quando si prendono degli impegni con la popolazione come è successo a Mortise, sempre qui a Mortise con Via Bassette, con il Camponomadi di Via Bassette nessuno in dieci anni è riuscito a chiuderlo, oppure come la casa Don Gallo ieri dove è stato promesso per anni ma noi con il cospi dello scorso anno abbiamo raggiunto un accordo, ieri è stata chiusa anche per la sala slot di Via Lanari si è trovato una soluzione importante.